Il breve romanzo di cui raccomando la lettura è il Ponzio Pilato di Roger Caillois, saggista intellettuale francese del secolo scorso. Il romanzo vide la luce nei primi anni Sessanta, poco prima cioè che divenisse noto al mondo il Maestro e Margherita, il capolavoro di Bulgakov in cui, come tutti sanno, il procuratore della Giudea svolge un ruolo di primo piano. Nel racconto, che è un concentrato di intelligenza, di finezza e di immaginazione, Caillois ripercorre le ore che vanno dall'arresto di Cristo al momento in cui al funzionario romano è richiesto di prendere una decisione. Come sappiamo i Vangeli narrano che alla fine Pilato decise di non decidere, lavandosi simbolicamente le mani e abbandonando così Gesù al suo destino. Ma che cosa sarebbe accaduto, si chiede Caillois, se Ponzio Pilato non si fosse lavato le mani di questa decisione? Tutti premono per la condanna del Cristo innocente, benché per ragioni diverse vogliono così il Sinedrio, la folla, Menenio, che è il consigliere di Pilato e cinico assertore della ragion di Stato. E vuole lo stesso anche Giuda, che ha tradito solo perché si addempissero le scritture e il sacrificio di Cristo mutasse radicalmente la storia. E la pensa così anche che è Marduk, l'amico caldeo di Pilato, che non crede a nessun Dio, ma che con sguardo profetico e visionario immagina tutte le vicende future, anche terribili, legate alle affermazioni del cristianesimo. Secondo Marduk, tutto sommato, i vantaggi supereranno gli svantaggi. Solo la moglie di Pilato, una donna tormentata e sofferente, ha avuto un sogno che ammoniva di salvare Gesù. Da un lato Pilato mal tollera che un innocente venga condannato, dall'altro sente il peso epocale che grava sulla sua decisione. Che cosa farà alla fine il procuratore della della Giudea?